Noi ci dobbiamo attenere il più possibile a quello che sarà deciso da questo Consiglio federale. Ci ha spiazzato un po' lo slittamento di una settimana, però abbiamo preso atto e continuiamo a tenere a bada il nostro entusiasmo. Mordelfreno, Bitonto, non saranno pochi giorni di ritardo, quelli coincidenti con lo slittamento del Consiglio federale all'8 giugno a cancellare 100 anni di attesa, quelli per il professionismo che la città in provincia di Bari si appresta a vivere per la prima volta nella sua storia, complice lo stop anticipato alla stagione del calcio dilettantistico e il primo posto davanti al Foggia. Il morale in città, assicura il DS Rubini, è molto alto. È una sensazione che non avevamo mai provato, la gente è entusiasta di quello che abbiamo fatto ed è molto partecipe. Sui balconi si vede qualche bandiera, si sta colorando la città. Tra le conferme anticipate a Telesveva da patron Francesco Rossiello ci sono quella del bomber Chicco Patierno, top scorer con venti reti e bitontino doc, e di mister Roberto Taurino. Altri elementi che potrebbero restare in rosa sono Lomasto, Biason e Turitto. Il giovane difensore Pierno intanto è rientrato per fine prestito a Lecce per allenarsi fino al termine della stagione 2019-2020 con la squadra giallorossa. Ora di nomi se ne fanno tanti, quindi prendiamo tutto per buono, ma nulla di certo. Soprattutto quest'anno il calciomercato sarà molto lungo, quindi tempo al tempo. Qualche chiacchierata iniziamo a farla, però aspettiamo prima l'ufficialità e poi andremo avanti sulle linee guida che darà il mister. Dall'impalcatura della Rosa a quelle attese allo stadio Città degli Ulevi, in attesa di un restyling necessario per giocare a Bitonto le partite casalinghe di Lega Pro, con l'impianto che non è ancora omologato per disputare la terza serie nazionale. Il passo è breve. In questo momento la cosa peggiore da fare da parte della società è per polemica. Se l'amministrazione ci ha dato certezze che renderà lo stadio a norma il prima possibile, non possiamo fare altro che affidarci all'amministrazione comunale. Sarebbe bello avere una deadline dei tempi. Work in progress a tutto campo, in attesa di annunci ufficiali e della festa che un'intera città attende da cento anni. Penso che il Presidente sia sempre stato trasparente e continuerà a farlo anche in questa situazione. Ora aspettiamo l'ufficialità e sarà comunicato quanto dovuto a tutta la cittadinanza.